Ciao, sono Fabio Bezzoli e sono un dei fondatori di Non Limit Generation. Tre anni fa ho conosciuto per caso il Network Marketing e me ne sono subito innamorato. Ho avuto davvero un ottimo successo personale ed ho sempre pensato che l'idea di fondo rappresentasse quello che per me è il business perfetto, anche se alcune dinamiche con le quali mi sono incontrato mi stavano facendo allontanare da questo settore. Poco tempo fa un amico, un leader internazionale mi disse, voglio farti conoscere un professionista di grande valore, ma soprattutto una persona di grande valore e mi presentò Luca Brignoli. Un giorno Luca mi chiamò e mi disse, Fabio guarda ho un progetto, voglio mettere insieme una squadra talmente forte e talmente ricca di contenuto da non aver più bisogno di nulla e di nessuno. Sinceramente nel mio percorso avevo già sentito tantissime volte dire una frase del genere. Infatti con un mezzo sorriso gli stavo già dicendo a Luca guarda lascia stare perché non mi interessa, ho altri progetti. Lui però mi anticipò e mi disse, guarda ti mando la lista delle persone che hanno già detto di sì, mi mandò la lista, allora iniziai a guardare la lista, ok ci sto. Perché io sono entrato in No Limit Generation? Per la squadra perfetta, per l'idea perfetta e per la squadra perfetta con l'idea perfetta. Ma soprattutto perché tu dovresti entrare in No Limit Generation? Perché puoi essere il protagonista di una storia che entrerà nella storia? Perché anche se conosci il Network Marketing e anche se conosci l'Internet Marketing, nessun altro potrà aiutarti ad ottenere il 200% della loro fusione e perché No Limit diventerà sinonimo di etica. Stare con noi vuol dire essere l'idea differenziante. Tutto questo magari ti sembrerà follia, ti auguro di essere un folle. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.